Ma la prima parola la darei al protagonista, l'ho definito venendo l'uomo oggetto di oggi, Marco Malvaldi, volevo sapere cosa pensa del caso Malvaldi? Innanzitutto salve a tutti, grazie di questo invito. Cosa penso del caso Malvaldi? Io non lo so, fondamentalmente quello che vi posso raccontare è qual è il mio punto di vista, cioè com'è che io mi sono ritrovato su questa piccola e meravigliosa nave, perché è un qualcosa che ha anche a che fare proprio con quello che diceva prima Anna Rita, cioè la filiera editoriale, perché dal momento in cui nasco al momento in cui comincia un pochino di successo si vedono più o meno molti dei mestieri che stanno dietro a un singolo libro. Io, come appunto, come è stato detto io sono un chimico, sono laureato in chimica e ho iniziato a scrivere appunto il primo libro, La briscola in cinque, è nato durante l'anno della tesi di laurea, che è un anno buio, noioso e puzzolente, particolarmente per gli studenti di chimica, questa è una verità. Quindi il primo libro nasce appunto per tentare di non perdere i neuroni durante la tesi e me ne scordo tranquillamente, viene messo lì da parte. Poi una serie di circostanze fortunate mi portano a pensare che forse dentro quel libro potrebbe esserci qualcosa. Decido di prendere il manoscritto, punto, prodotto qualche tempo prima e di mandarlo a qualche casa editrice e qui inizia il primo step. A quante case editrici si manda un manoscritto? A tutte quelle che ti vengono in mente. Io lo mando a 13 o 14 case editrici. Alla Sellerio non lo volevo mandare perché mi sembrava oggettivamente di mirare troppo in alto. Cioè è la casa editrice di Camilleri, è la casa... Allora, piccolo test. Quante case editrici mi hanno risposto? No, una. Una, la Sellerio. Per cui, diciamo, il tempo di gestione di un manoscritto che arriva necessariamente gira intorno a un anno. Un anno che è abbastanza elastico e che, insomma, se uno di mestiere fa il lettore può essere gestito anche professionalmente con una singola occhiata perché mi viene spiegato contestualmente i manoscritti che arrivano non sono quasi mai terra di mezzo, cioè oggetto dignitoso. C'è un 20% di roba buona che si merita sicuramente la pubblicazione, bisogna capire solo se siamo la casa giusta, la casa editrice giusta o no, e un 70-80% di roba che va tirata dalla finestra il prima possibile. Pare che la persona che potrebbe scrivere un libro dignitoso e senza infame e senza lode ne sia consapevole e non lo faccia. E comincia la prima parte, l'editing. Cioè il... sì, ok, il libro l'hai scritto, adesso ne parliamo. Si arriva a una parte ancora più divertente che è la correzione delle bozze. Chiunque abbia fatto una correzione delle bozze sa che ci sono momenti nella vita di uno scrittore che non sono divertenti. Quindi, questo è uno di quelli, specialmente quando lavori con una casa editrice siciliana e quando il correttore di bozze si permette alcune libertà. Tipo, sento la voce al telefono di Floriana Ferrara, la mia correttrice, dopo una telefonata che è durata circa 4 ore e un quarto, perché il libro è stato corretto al telefono, quindi pagina 27, rigo 4, pagina 27, rigo 9. A un certo punto, sento, pagina 58, rigo 10, lei fa prendere a un personaggio una granita di limone con la panna. Faccio sì, ecco, la granita di limone con la panna fa schifo, dottor Malvalti. Nessun essere sano di mente la prenderebbe mai. È sicura. Io sono di Catania, allora mi scusi. Facciamo caffè con panna, è meglio. Questo... E poi, quindi il libro corretto, si incomincia a dargli una forma e si incomincia a, quindi, a renderlo appetibile. Altra cosa bellissima che vedo è l'immagine di copertina, l'immagine che andrà sul mio libro. Se avete, se qualcuno, ho visto che prima qualcuno aveva in mano la briscola in 5, la cosa meravigliosa è che l'immagine che voi vedete sulla copertina non è quella che ho ricevuto io. Per cui io mi vedo arrivare questa copertina, la provo anche perché c'è scritto nella mail che non posso fare altrimenti. Cioè, mi si chiede se va bene o va bene, e io rispondo che va bene. Dopodiché un giorno mi arriva in dipartimento, mi arrivano le 10 copie staffette, e io vedo, vedo arrivare il libro, Diverso in vari modi, in vari modi tutti significativi, perché? Primo la copertina è diversa, riconoscibile perché il quadro è palesemente della stessa serie, però non è lo stesso. Poi apro, tenete conto il momento, e sono uno scrittore esordiente che in dipartimento apre un pacco contenente il suo primo libro con scritto se l'eroeditore Marco Malvaldi. apro, annuso, saggio la meravigliosa consistenza, e comincio a leggere la bandella, la seconda di copertina, questa parte qua. Che non ti era stata sottoposta in precedenza? No, che non mi era stata sottoposta in precedenza. Che non mi era stata sottoposta in precedenza. E questo è un grosso errore che a volte si può fare. Nel mio caso è ancora più grosso, perché? Perché io inizio a leggere La rivalza dei pensionati. Siamo in un paesino della costa vicino a Livorno. Mentre fuori tuona, non c'è cortesia che tenga, prendo il telefono e chiamo. E dico, scusate, io sono nato a Pisa, vivo a Pisa, lavoro a Pisa, e voi mi iscrivete in provincia di Livorno. C'è gente che mi toglierà il saluto. E dall'altro capo, una persona molto cortese, mi risponde, va bene, dottor Malvaldi, se ci sarà una seconda edizione, provvederemo a correggere l'errore. Scusi, ma la prima edizione, signorina, o signora, da quant'è? È da 7000 copie. Faccio, signorina, io i 7000 parenti in tutta Italia non ce li ho, cioè abbiamo un problema. Il problema poi si rivela più grosso di quello che credevo, perché la prima edizione da 7000 copie va esaurita in due settimane. Io avevo paura di andare a casa di mia madre, di aprire i cassetti e di trovare impilati, no? Tu vuoi esemplare i suoi esemplari della briscola come i panini infantozzi. Per cui, quando mi ritelefonano dalla casa editrice mi dicono, ci ha segnalato l'altra volta che c'era un errore nella bandella, che c'era qualcosa che voleva correggere. Cos'è che vorrebbe correggere? Nulla. No, nulla, non toccate nulla, cioè non sia mai che fosse quel Livorno, no, no, perché credo che in questo momento sia la quarantesima edizione della briscola Livorno c'è sempre.